Novità per gli italiani all'estero per quanto riguarda la tassa sulla casa e il pagamento del canone della RAI. Con la legge finanziaria è stata riconfermata per il 2016 l'esenzione del pagamento dell'IMU per i pensionati iscritti all'Aire con l'aggiunta pure per loro anche dell'esenzione totale della Tasi per l'abitazione posseduta in Italia. Per quanto riguarda la Tari invece resterà la riduzione a un terzo della tassa dovuta. Un'altra novità importante riguarda il canone RAI che quest'anno scenderà da 113 a 100 euro l'anno ma che non si pagherà più tramite il bollettino come in passato ma con la bolletta elettrica. Pertanto i 100 euro saranno pagati da tutti i titolari di una utenza elettrica. Ne saranno esenti coloro che dichiareranno sotto la propria responsabilità penale di non avere la televisione. Ogni viaggio nasce come un sogno e Ventresca Travel vi aiuta a realizzarlo. Grazie all'esperienza del suo direttore Franco Ventresca e del personale ogni viaggio diventa un'esperienza indimenticabile. Per i vostri viaggi in Italia al sud o altre destinazioni chiamate con fiducia Ventresca Travel 416 745 1145. Grazie a tutti.